Avrebbe chiesto soldi in cambio di terapie su persona fragile. Ieri sera i carabinieri del NAS di Pescara hanno arrestato, nella flagranza del reato di concussione, PL di 52 anni, medico-chirurgo, in servizio recentemente negli ospedali di Sulmone e Casteldisangro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sulmona, sono state avviate a seguire la denuncia resa ai carabinieri del NAS abruzzese dalla vittima, rimasta perplessa dalla pretesa del medico in occasione di visita di emergenza avvenuta presso il pronto soccorso dell'ospedale Peligno, di somme di denaro per somministrarle a domicilio terapie adiuvanti provenienti dalla Svizzera. I militari, appositamente appostati nel luogo concordato per l'incontro con la vittima, hanno assistito alla consegna di 230 euro al medico che la intascava senza esitazione e sono immediatamente intervenuti prima che lo stesso inoculasse alla vittima per via endovenosa il farmaco che aveva portato con sé e già approntato in flebo. Inoculazione che peraltro avrebbe seguito senza alcun piano terapeutico un paziente che sta affrontando cure salvavita, utilizzando addirittura un dispositivo medico risultato scaduto di validità. Al termine delle successive perquisizioni, effettuate unitamente militari della Compagnia Carabinieri di Sulmona, nel corso delle quali è stato sottoposto a sequestro, ingente materiale ritenuto utile alle indagini, PL è stato tratto in arresto in flagranza di reato associato alla casa circondariale messo a disposizione dall'autorità giudiziaria. Lo stesso è accusato del delitto di concussione consumata nei confronti della paziente, poiché abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, approfittando della condizione di estrema fragilità della vittima, derivante dalle gravi patologie di cui è affetta, avrebbe chiesto somme di denaro da versare ogni somministrazione in cambio di una verosimile specialità medicinale, pur conoscendo le delicate condizioni della vittima. Tra i farmaci, nella sua disponibilità, vi erano flaconi riportanti l'indicazione per uso riservato agli ospedali, dei quali si sta accertando la reale provenienza, oltre a preparazioni già pronte da somministrare a potenziali altri pazienti. L'arrestato, recentemente candidato nelle ultime consultazioni elettorali, è stato condotto alla casa circondariale di Pescara, a disposizione della Procura della Repubblica di Sulmona.